Rispondo a Linda Zangrandi che mi chiede Ho due cani e femmine intere, un lagotto e un incrocio pitbull Vivono insieme da due anni e ora si azzannano Perché? Allora partiamo dal presupposto che non conosco la situazione, non ho visto i due cani Quello che posso fare è una disamina generica Legata al fatto che la maturazione totale avviene in determinate razze intorno ai due anni e mezzo, anche tre E proprio in quel momento cominciano a crearsi dei conflitti fra i membri del branco costituito Quindi quello che lei sta rappresentando non è assolutamente una novità Ma è una cosa abbastanza normale In questi casi lei deve assumere la leadership di questo branco Per far sì che in sua presenza questi accadimenti non avvengano più Per farlo le consiglio di affidarsi a un professionista cinofilo Che possa aiutarla a comprendere qual è la modalità più corretta da utilizzare in un caso di questo tipo